Confermata la tradizione che vede Altea vincere o comunque primeggiare nella Long Distance che quest'anno è la Immersion Long Distance Race. Sì, è il quarto successo per noi, siamo molto contenti. Quest'anno ottime condizioni, negli ultimi due anni abbiamo avuto meno vento, invece quest'anno c'è stato un bel vento da sud, ci siamo anche divertiti, ci sono stati un po' pochi iscritti, però divertente comunque. Sicuramente la scelta vincente è stata stare sotto la sponda bresciana? Sì, appunto nella bolina, nell'ultimo pezzo di bolina, stare sotto la bresciana ci ha portato più vento, un po' consigliati anche dal nostro tattico che abbiamo imbarcato oggi, Michele Menamati, che aveva già fatto qualche regata con noi oggi, l'abbiamo imbarcata all'ultimo momento e ci ha portato dalla parte giusta. Siete andati là quindi per scelta o perché non si poteva stare sotto la sponda veronese a causa del Mondiale FD? No, direi per scelta, comunque sicuramente non potendo stare completamente sotto la veronese diciamo che era più facile scegliere la sponda bresciana, ecco, perché tutti comunque non potevano andare completamente a terra e quindi alla fine conveniva stare dall'altra parte. Ha pagato perché ci sono quattro minuti sul secondo? Sì, sì, abbiamo preso, avevamo davanti due barche, Little Wing e Lungherese Virus, prima della scelta e dopo la scelta abbiamo preso veramente tanto vantaggio che ci ha concesso di fare la poppa con tranquillità diciamo. Chi ben comincia a metà dell'opera? Vediamo, non dico niente. Vediamo, non dico niente. Grazie. Grazie.